Al via l'ottavo premio speciale ZS caporale per un filmato sulla relazione uomo-animale. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo del Molise di Teramo ha infatti istituito nel 2010 questo premio speciale all'interno del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo. Il fine è quello di veicolare la sensibilità e la conoscenza nei confronti degli animali e del loro benessere attraverso il cinema. L'Istituto ZS fa ricerca ed è una grande eccellenza ma non trascura i sentimenti? No perché noi sappiamo benissimo che non è sufficiente fare ricerca, non è sufficiente studiare gli animali ma quello che conta è capire la qualità della relazione che esiste fra gli animali e coloro che li possiedono. E così avete pensato a questo premio? E questa è stata una grande opportunità che ci è stata offerta di poter dare il nostro contributo in maniera tale da rafforzare veramente la nostra missione che è quella letteralmente di migliorare per quanto possibile la qualità della vita degli animali per garantire una migliore qualità di vita delle persone. Qual è il miglior rapporto tra uomo e animale? Quello che è importante è che ci sia equilibrio. Questo equilibrio passa attraverso la conoscenza. In questo senso l'istituzio profilattico ha naturalmente tutti gli strumenti per divulgare le conoscenze che sono più consolidate e soprattutto quelle nuove perché il mondo degli animali è un mondo ancora poco conosciuto dal punto di vista per esempio del comportamento. Ci sono degli aspetti legati soprattutto alle loro capacità percettive, alle loro capacità naturalmente mentali e di elaborare determinate informazioni che è ancora abbastanza ignoto, così come vale naturalmente lo stesso principio per le persone. Il bando e la scheda di iscrizione al premio speciale caporale sono disponibili sul sito dell'istituto. Sono ammessi filmati di durata compresa tra i 5 e i 15 minuti e al primo classificato andrà il premio di 700 euro.